Gabriele Omar Batistuta torna al Boca Juniors. La notizia è rimbalzata dall'Argentina, l'ex attaccante di Fiorentina, Roma e Inter è in lizza per un posto da DS degli Xeneises. Il Re Leone, intervistato da Fox Sports, avrebbe commentato così. Ho saputo dell'interesse del Boca, anche se ancora nessuno mi ha contattato. Chiaramente mi farebbe piacere e mi renderebbe orgoglioso. Sono un tifoso del Boca, la squadra più grande d'Argentina.